nel voler raccontare una storia quello che fa la differenza sono soprattutto le idee non solo i mezzi economici o tecnici ma soprattutto le buone idee lo spirito di collaborazione lo spirito di unione e di sacrificio e la volontà di fare insieme un bel lavoro quindi speriamo vi piaccia e speriamo che insomma lasci un pensiero un ricordo e un'esperienza anche a voi